state osservando una lavorazione del tutto particolare dopo otto mesi di appassimento in cassetta di uve di uve malvasia stiamo iniziando la lavorazione di un passito che oserei dire estremo e che sarà come alcuni di voi sanno già l'ailanto 2000-2008 a breve vi mostreremo le altre fasi della lavorazione grazie